Ragazzi, è l'ora della merenda. Ragazzi, stamattina c'è una novità. Nella nostra classe arriverà un nuovo bambino e viene dall'Africa. E come si chiama? Dov'è adesso? Ma quanto è arrivato in Italia? Calma, non so altro. Forse è uno dei tanti che arriva con il balcone. In tipo ho visto un rumore pieno al zeppo di persone. Madonna, antiripressione, povera gente. Eh, hai ragione. Ma perché scappano dal loro paese? Ma come, non lo sai? Nel loro paese c'è la guerra e muoiono di fame. Comunque noi non facciamo differenze, siamo tutti contenti. Vabbè, ma comunque nella nostra classe ci sono sempre stati bambini di altre nazionalità e siamo sempre stati bene insieme. Luca, ma da quale nazione arriva? Dalla Tunisia, se non sbaglio. E dove si trova? Sicuramente in Africa. Andiamo a vedere sulla cartina. Visto che la diversità arricchisce, se non era per quel bambino, chi avrebbe mai conosciuto la Tunisia? Ma non pensavi di organizzare una festa di benvenuto? È una buona idea. Secondo me è la prima cosa da fare, un grande striscione con su scritto benvenuto tra noi, non solo in italiano, ma anche in inglese e in francese, perché può darsi che conosce anche queste lingue. Io dico di scriverlo anche in arabo, perché in Africa si parla questa lingua. Hai ragione, provo Federico. Allora che organizziamo? Nell'aula possiamo mettere tanti palloncini e la bandiera del suo paese. Sì, certo. Possiamo anche recuperare il vecchio albero sul vetro della finestra, dedicandolo all'amicizia dei popoli. Voi che farete? Penso che ci vorrà anche una bella torta, o no? E certo, e non solo. Potremmo fargli conoscere anche il nostro paese, cominciando dal porto. Già, a me sembra giusto, anche per fargli capire che il mare è una strada che unisce e non separa. E che noi amiamo il mare, e che da sempre siamo stati accoglienti verso tanti popoli. Sì, giusto. Chissà che brutta esperienza ha vissuto il mare. Certamente, intanto vi facciamo conoscere la spiaggetta della brutta. Idea, che ne pensate di fare un bel giro tondo sulla spiaggetta accanto a una nuova canzone? Grazie. 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 Ragazzi, vi presento Yassin. Ciao Yassin! Grazie. 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 Grazie.